Buonasera a tutti i trader, a tutti gli investitori, Pietro Liglia, responsabile del blog Unocchio sui mercati azionali, come al solito in compagnia di Trend Online con il nostro rapporto di fine giornata e sui principali distini azionali dell'area euro. Ed è stata una nuova giornata impostata sulla debolezza, quella attuale, la quarta settimana, perché continua il braccio di ferro e tra la Grecia e i suoi creditori ancora nulla di fatto, ricordo le scadenze ravvicinate del paese ellenico e il rimborso verso il Fondo Monetario Internazionale, quindi un'incertezza che continua sempre di più a rendere nervosi i mercati e tutto ciò si ripercuote anche sul mercato dei governativi, dove abbiamo i rendimenti in forte risalita come il boom vicinale tedesco che si avvicina alla soglia del 0,95%, il nostro BTP che ha superato da giorni la soglia del 2%, il viaggio in area 2,20% e quello dei buono spagnoli in area 2,15%. In questo contesto, dopo la riunione della EBC è poco da segnalare con l'euro che consolida i guadagni nei confronti del dollaro e transitanti in area 1,128. Ricordo che a questo punto le attese sono per una continuazione del movimento in atto in direzione delle forti resistenze poste in area 1,145, oltre quali verrebbe inviato un importante segnale di forza che l'euro è al momento risulta essere una e valuta forte, lo si vede anche nei confronti dello Yen, dopo aver breccato nelle ultime giornate le importanti resistenze poste in area 137. Andiamo a dare uno sguardo al nostro indice principale che chiude in ribasso di oltre l'1%, attenzione, è perché andiamo a testare gli importanti supporti di questo trading range segnalato nelle ultime nostre giornate, posti in area 23.300, 23.250. Ricordo che sotto questi livelli è possibile una continuazione delle debolezze nel breve periodo con primi target posti sulla soglia, sul supporto psicologico dei 23.000 punti, sotto in area 22.850 punti, ma come segnalato anche nella mia intervista quotidiana per Trend Online, nonostante la debolezza di breve, ci sono delle buone opportunità sul nostro indice e principale, una di queste è la Mid Cap e Brembo, attenzione perché il titolo continua a premere sulle importanti, si attesta quindi a testare le importanti resistenze posti in area 39,50 oltre i quali sono i massimi di sempre, il titolo invierebbe un importante segnale positivo, un importante segnale di acquisto e continua il suo trend positivo, anche il titolo fin meccanica, ricordo uno dei titoli importanti nel nostro portafoglio large cap che chiude il rialzo del 0,25%, sempre sopra l'importante resistenza posti in area 12 euro che sono diventati nel frattempo dei supporti, ricordo al rialzo i primi target rialzisti in area 12,80 e a seguire 13,15-13,20. Ricordo sempre chi fosse interessato al servizio di report e disegnare operativi, basta consultare la pagina premio di trend online, scrivere una mail che sullo sfondo, ricordo un servizio, intraday e multiday, tutto dedicato al nostro mercato azionale italiano, non solo con l'uso della mail ma anche con quello di sms, semplicemente basterebbe cliccare in alto l'icona destra che vi porta la pagina lancio per la sottoscrizione dei due tipi di servizio, uno riguardante le blue chip 40, le altre e l'altro le mid cap. Con questo è tutto, l'appuntamento è domani sera, ultima sutra della settimana, come al solito ringrazio tutti per l'attenzione, buona serata e buon trading.